Come possiamo valutare l'età di un mattone o di una piastrella dipinta come questa? In questo laboratorio misuriamo la luce emessa da questi materiali quando vengono riscaldati. Questo valore è legato all'energia che viene immagazzinata nel tempo dal materiale e quindi, valutando l'energia, possiamo valutare l'età. Su questa ruota vengono posti i campioni che poi vengono scaldati all'interno di questa macchina e viene registrata la curva dell'intensità della luce. Da questa si calcola l'età.